Tempo fa si era parlato di un hotel che aveva suscitato l'interesse di Liliana e che si trovava circa 20 minuti dalla casa di via Verrocchio. Vediamo se Claudio Sterpino e Sebastiano Visentin sanno qualcosa a proposito di questo luogo. Giuro che non lo conosco. Noi dovevamo andare assieme il giorno 18 e passate 18, 19 e 20 di entrare a Umagovo, dove io ce l'ho stato più volte. Semplicemente Umagovo vuol dire Croazia. Di questo non so, giuro, non ho sentito parlare, non mi l'ha mai accennato veramente. Prenotava per quanto suo, obiettivamente, almeno penso, a meno che. Siccome mancavano ancora un paio di giorni, purtroppo noi avevamo maturato tutto nell'ultimo mese o poco più, per cui ogni giorno c'era qualche novità fra di noi, obiettivamente. Io neanche so obiettivamente dov'è. Conosco Cesana, Cesana è qua oltre i confine, ci sono andato cento volte a Cesana, un amico che ci vediamo il pomeriggio che abita a Cesana. Claudio, non pensi che forse voleva farti una sorpresa? Chi lei? Ma non credo. Mi sembra strano. Se è così, un poco strano mi sembra. Però le stranezze non finiscono mai. Bisogna chiederlo a lei. Come tanti hanno detto, bisogna chiederlo a lei. Punto. Quindi Claudio Serpin non conosce il luogo. Vediamo se invece Sebastiano ricorda un po' di più. Non ho la minima idea. È che hai detto da lei? Allora, non ho la minima idea. Andate a chiedere là se c'è il nome. Non è complicato. Basta chiedere. Non so neanche dove sia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo